Ciao a tutti amici come vi è omero, oggi siamo tornati con un nuovissimo video. Ragazzi oggi siamo di nuovo nella serie di Aerobrine, ragazzi allora praticamente adesso vi metterò delle immagini, io avevo registrato un episodio dove avevo trovato delle cose stranissime, adesso vi metterò anche delle diapositive. Poi ho costruito un po' di casa e alla fine dell'episodio ho trovato questa cosa strana. Ma quella là, che non è un dungeon, perché il dungeon ha una pietra moschiata e quella lì non è pietra moschiata. I maiali ragazzi continuano a spingere. Cavolo. Guarda, se ne va! Non mi attacca! Adesso perché l'ho attaccato io? È un dungeon, c'è un mob spawner. Qua ci sono delle cose molto interessanti. Oddio una croce. Ragazzi è stranissimo tutto questo. Ma ce n'è un altro. Perché la c'è luce? Io lì non ci sono andato rado. Che cavolo, delle mochette. Ragazzi è la prima volta che trovo delle mochette. No, questo non è normale. Occhi aperti ragazzi, occhi aperti. Ragazzi voi siete liberi di credere quello che volete. Ma questo non è normale, non può succedere. Una tempesta va così vicino a me. Ragazzi occhi aperti, c'è Erobrine. C'è Erobrine. C'è Erobrine. Oddio è sparito qualcosa lì. Ragazzi occhi aperti, mi metto in mezzo agli animali. Oddio. Ma qua se mi prendi un fulmine. Io non ho neanche la spada, sembra proprio che, come ho detto Mucchette, è iniziata la tempesta. Mi sembra proprio che ero Erobrine. Poi, chissà come mai è proprio iniziata quando io non avevo la spada. Cioè, ho aspettato che io fossi debole. Ok ragazzi, va bene tutto. Voi siete liberi. Che cavolo c'è là? Ah no, niente. Voi siete liberi di pensare quello che volete. Però, io la penso in questo modo. Se qui non c'è Erobrine, veramente, posso anche chiudere il canale. Ma c'è qualcosa che non va. Guarda quanti mob. Oddio ragazzi, io non voglio aspettare la fine della tempesta. Oddio è comparso quel... Oddio! L'avete visto? Io faccio... Ho ricaricato. È comparso. No, no. Io non ci sto. Si sentono dei rumori strani oltre alla tempesta. Ragazzi, ho paura. Non sto scherzando, ho paura. Per questo episodio, ragazzi, può finire qui. Quindi, ragazzi, lasciate dieci mi piace. In descrizione trovate Instagram. Iscrivetevi al canale. Sostenete la serie. Perché tutto questo non è normale. Sentite che suoni. Ragazzi, io vi auguro una buona giornata. Ciao da Fribombare. 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 Grazie a tutti